Ciao a tutti, sono Michele Specchiale, conosciuto con il nome d'arte di DJ Bionico Bionico perché anch'io ho subito un incidente che mi ha causato la perdita di un braccio e quindi dall'inizio si pensava che non potessi più suonare, non potevo più realizzare il mio più grande sogno che quello della musica e poi grazie al centro protesi Inail di Vigorso di Budrio dove mi ha attrezzato, se così possiamo dire, di una protesi, di una mano bionica dove riesco a esprimermi e a poter utilizzare la console come si deve utilizzo una mano bionica in console per poter suonare ed esprimere in positività la mia più grande passione che è la musica al Festival della Cultura Paralimpica anch'io nel mio piccolo ho contribuito allo svolgimento di questo festival rallegrando un po' le giornate e facendo vedere che tanto di cappello i nostri atleti, che ce ne sono tantissimi cerco di portare la musica sotto forma di questo festival, di questa cultura, anche la musica in un certo modo è una cultura dove uno si esprime e cerca di colmare le proprie passioni io non mi sono mai arreso, la musica è stata il mio compagno, il mio cavallo di battaglia dove attraverso la musica io mi esprimo utilizzando queste protesi, queste mani bionici e quindi non mi sono arreso, mi sono portato sempre avanti grazie a queste protesi che sono eccezionali, sono meravigliose Grazie